Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Nef Simo, oggi ragazzi siamo di nuovo su Clash Royale Che sono successo un paio di cose abbastanza... Ero qui, proprio da solo, tranquillo Cioè avevi i bauli d'argento, cioè raga bauli omaggio, vabbè non ho trovato niente, primo baulo d'argento non ho trovato niente Ho aperto il secondo che era qui, tipo di fianco a destra del baulo d'argento che si sta sbloccando Ho trovato dentro il tronco, raga guardate, ho trovato dentro il tronco Ma ragazzi, ma ragazzi, io questo video è davvero brevissimo, brevissimo Perché? Perché? Perché adesso io andrò ad aprire il baule leggendario Ecco, baule leggendario nello shop, andiamo raga, andiamo? Andiamo? 3, 2, 1 Scrivete nei commenti prima di stoppare il video, fate quello che volete Scrivete qua sotto nei commenti secondo voi che cosa c'è Vediamo, mettete like, mi raccomando Vediamo, andiamo! Non guardo! Dimmi che la carta che ho sbloccato La cimitero Vabbè, ce la portiamo al 2, però che palle, la cimitero Io voglio il boscaiolo, voglio il boscaiolo Perché in quel baulo d'argento, al posto di darmi il tronco, non mi ha dato il boscaiolo? Io sinceramente davvero preferivo il boscaiolo a questo punto Perché davvero era più, più bello alla fine, dai Tra 8 giorni vediamo questa nuova truppa La proviamo magari nel, 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 nel maestro Cioè nel campo Perché per ora davvero, sono davvero serio Guardate qua 2.797 coppe E penso che sia davvero il mio record Sì, infatti 2.797 Non so in che posizione siamo nel clan Mi pare sessi Vedete, nel baule davvero ho fatto davvero cagare Ho fatto proprio due corone per prendermelo Ma non ho trovato proprio niente Tra l'altro noi arriviamo Sempre, siamo scarsi Arriviamo sempre al terzo baule Quarto, massimo quinto Quindi se volete entrare e darci una mano Potete benissimo entrare Tra l'altro c'è anche Un'iscrizione gratuita Quanto pare vedo Vabbè sono carte in più Ragazzi se la volete nel canale mi raccomando Spolliciate perchè questa ve la porto Questa ve la porto Comunque ragazzi volevo un attimo Scusarmi con voi Perchè sono stato inattivo sul Mio canale fino a questo tempo Adesso devo stoppare perchè c'è il mio cane Che sta facendo i capricci Ma vaffanculo Aspetta C'è il mio cane Benissimo perfetto Comunque stavo dicendo scusate per l'inattività Sul canale ma Mi è tornata L'Xbox quindi adesso Praticamente la mia vita è sull'Xbox Devo recuperare assolutamente Se magari sei stinta E zitta che devo parlare Eh Devo assolutamente comunque giocare Perchè non riesco a non giocare Comunque vi voglio fare vedere una cosa Se noi andiamo qua sotto Nello Che cazzo Cosa Cosa Che cazzo Vabbè comunque stavo dicendo Non si è ancora sbagga Aspettate un attimo Aspettate Perfetto adesso dovrebbe Escersi Riavviato No Niente Perfetto Vabbè Comunque se andiamo qua sotto Vedete che non c'è assolutamente niente Sicuramente l'avete visto da qualche youtubers Io ve lo faccio vedere Io ve lo faccio vedere Dobbiamo assolutamente Cambiare la lingua E mettere la lingua Ehm Come si chiama Ok dovevamo mettere la lingua coreana Che è venuta solo adesso Intanto guardate quanto è bello Il tronco livello 2 E c'è anche l'1 Cioè guardate che bello Comunque se andiamo qua sotto Che tra l'altro è ancora tutto buggato Va bene va bene Se andiamo qua sotto Cioè abbiamo un tastino segreto Riga io non lo clicco Cioè io l'ho visto da uno di youtubers Però io non lo clicco Perché poi Mi mandano i siti strani Insomma quindi io non lo clicco Per sicurezza Non perché sia un virus Perché è supercell voglio dire Però Non c'ho voglia Ecco Per farmi capire meglio Quindi ragazzi io vi saluto Scusate per le inattività sul canale Adesso incomincerò E rincomincerò piano piano a fare i video La serie di minecraft E vi dico che È in arrivo la nuova serie di minecraft Che ho in mente io Ragazzi non l'ho presa nessuno youtubers Almeno spero davvero Perché l'ho presa L'ho inventata io Quindi adesso vedremo Comunque ragazzi io vi saluto Ciao ragazzi E ci vediamo al prossimo video